Quando io ero giovane io la droga non c'era perché non c'era nessuno che aveva i soldi per pagarsela. Io ho preso in giro un po' il census ed erita che dicono che siamo ricchi ma tristi. Evidentemente credo che ci siano dei giovani che hanno dei problemi, ecco soprattutto di lavoro, soprattutto di trovare dei lavori interessanti. In una società in cui il lavoro è tutto, credo che un giovane che non riesce a sistemarsi, eccetera, viva in stato di angoscia e quindi può darsi che la droga sia una specie di consolazione.